Il primo consiglio comunale dell'anno 2020 di Agropoli è stato convocato in seduta ordinaria per martedì 28 aprile presso l'aula consigliare del comune alle ore 10 e 30. Qualora dovesse andare deserta verrà rinviata in seconda convocazione il giorno dopo alla stessa ora. I punti all'ordine del giorno sono nove. Surroga del consigliere dimissionario Caccamo Consolato Natalino e contestuale convalida dell'elezione a consigliere comunale di Mario Pesca. Approvazione dei verbali della seduta precedente del 16 dicembre 2019. Ricorso all'anticipazione di liquidità di cui alla legge del 27 dicembre 2019, legge di bilancio 2020. Aliquota dell'addizionale comunale IRPE fanno 2020. Provvedimenti. Programma biennale acquisti di beni e servizi 2020-2022. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2020-2022. Verifica quantità e qualità di aree fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie anno 2020. Aggiornamento statuto azienda speciale consortile agropoli cilento servizi provvedimenti. E per concludere il nono punto terreni gravati da infite, usì e livello. Affrancazione e regolarizzazione. Approvazione regolamento. Il presidente del Consiglio Comunale Massimo Laporta, in ottemperanza del decreto emergenza Covid-19, ha disposto il distanziamento sociale nell'aula consigliare tra i consiglieri comunali e per coloro che vorranno partecipare in videoconferenza modalità smart working. Inoltre è possibile seguire il Consiglio Comunale in diretta televisiva sul canale 636 del digitale terrestre Cilento Channel, sulla pagina Facebook